Subito in vantaggio la formazione del Pineto di Daniele Amaulo con Shakir, c'è stato un buco centrale, si è infilato l'italo marocchino e ha battuto il portiere Cioci, rivediamo ancora l'azione del gol, il suo destro preciso, nulla da fare per Cioci, ex Olbia di proprietà del Cagliari, quarto minuto, Pineto in vantaggio, tra poco vedremo come è maturato il pareggio della formazione biancazzurra di Zdenek Zeman. Ecco qui, c'è un errore, un errore in fase di uscita, ne approfitta proprio a Cornero, il suo destro che non lascia scampo a Tonti, dunque secondo gol a distanza di pochi giorni per il classe 2004 che è stato preso in prestito dal Genoa. Poi queste reazioni del primo tempo, il protagonista è Volpicelli, il suo sinistro dopo una serie di fit che viene deviato da Brosco, poi Brosco è uscito a fine primo tempo al suo posto per la Cani. Ancora Volpicelli, la transizione, il lancio a tagliare il capo per Shakir che non inquadra il bersaglio grosso, l'italo-marocchino. Azioni del primo tempo, i due gol, botta e risposta tra Pineto e Pescara nel breve volgere di sei minuti. Ancora Volpicelli, troppo campo per i giocatori avversari della Pineto, ci prova Schirone, qui non si fa sorprendere. Sul primo palo Giuseppe Cioci, poi la difesa allontana. Vediamo la prima azione degna di questo nome del Pescara. Dai e vai, scarico, attacco dello spazio. Tommasini prova la conclusione, Tonti blocca, ma era in posizione di offside, l'ex giocatore del Tarato. Poi ancora il Pescara con Merola che riceve dal suo compagno di squadra squizzato serie di fit. Il suo sinistro è debole, nessun problema per Tonti che al termine della prima frazione di gioco sarà rilevato per il secondo tempo da Mercorelli. Qui Manu, molto bravo, esce palla al piede tra una silva di avversari. Poi il tentativo di Acornero, quello di Merola sulla rispinta del portiere Tonti. C'è una buona opportunità, dunque, non sfruttata dalla squadra di Zemmler, qui lo svarione della Quercia. Praticamente un assist per Tommasini. Insomma, si nota subito che non è la condizione ideale quella di Tommasini. Bravo comunque Tonti a fermarlo. Tonti che viene, come abbiamo già ricordato, sostituito da Mercorelli. Quindi Cuppone al posto di Tommasini, si mette in evidenza, elude l'intervento di Mercorelli, ma calcia sull'esterno della rete. Tutto questo nel secondo tempo su assist di De Marco. E questa è la grande azione di Volpicelli che taglia come un burro la difesa bianca-azzurra. Un'azione strepitosa. Poi si perde al lato del dunque il classe 92, maglia numero 7. Questo invece è il gol di Mattia Ruggero. Tutto molto semplice per il 2004. Prende il tempo, lo spazio, soprattutto a Pellacani, non è sinceramente irreprensibile. Dalle immagini possiamo dirlo senza tema di essere smentiti. Ciocci, insomma, c'è anche la complicità dell'estremo difensore bianca-azzurro. Di nuovo in vantaggio il Pineto. Nel secondo tempo il gol di Mattia Ruggero. Poi ancora la formazione di Amaolo, sempre con Ruggero. ad un passo dal Tris e l'ultima opportunità per Baggi, entrato in corso d'opera, perde l'attimo propizio per la conclusione e poi l'opportunità sfuma. Finisce 2-1 per il Pineto.